Poi dal lago di Monate sono andato alla lago poi dal lago di Monate sono andato alla lago lago di Monate sono andato alla lago e ho fatto tutta una contatta qua dall'alvena sono passato dietro e ho fatto un po' di montagna lì sono bloccato fuori da là e sono venuto fuori dalla casa nella strada qui sono andato a sud sono andato fuori a là un po' sempre